In questo video cerchiamo di capire insieme come funziona, qual è il meccanismo catalitico e il meccanismo di regolazione della piruvato di idrogenasi, che è la tappa metabolica probabilmente più importante e anche più complessa, se vogliamo, di tutta la biochimica. Allora, la piruvato di idrogenasi si trova, è un complesso multienzimatico localizzato nella matrice mitocondriale e permette di fare un link, se vogliamo, una connessione tra il metabolismo del glucosio e il metabolismo dell'acido citrico, del ciclo di Krebs. Quindi partiamo dal metabolismo del glucosio. Come sappiamo ormai molto bene, il glucosio entra attraverso la membrana plasmatica grazie a un trasportatore, una famiglia di trasportatori, dovremmo dire, nota come GLUT, Glucostransporter, ok? Ti ricordo che il glucosio è una molecola polare, idrofilica, forma dei legami a idrogeno con l'acqua e quindi per questo motivo non può passare liberamente per diffusione semplice, non può passare per diffusione semplice attraverso le membrane biologiche, ma ha bisogno di un trasportatore, in questo caso quello selettivo per lui è il GLUT. Il glucosio entra all'interno del citoplasma delle nostre cellule e viene subito fosforilato dalla esokinasi, e abbiamo diverse isoforme della esokinasi, e in glucosio 6-fosfato, ne abbiamo parlato nel dettaglio nel meccanismo catalitico. Il glucosio 6-fosfato può avere due vie, se ben ti ricordi, la via dei pentosiofosfati, di cui parleremo più avanti, e la via che a noi interessa in questo caso maggiormente che è la glicolisi. Il glucosio 6-fosfato va incontro a diverse tappe e viene metabolizzato finalmente a due molecole di acido piruvico. Cos'è l'acido piruvico? L'acido piruvico è l'acido del piruvato, cioè normalmente nelle cellule noi l'acido piruvico non lo troviamo quasi mai, ma lo troviamo sempre sotto forma di piruvato. Perché? Allora, analizziamo intanto cos'è l'acido piruvico. L'acido piruvico è un acido carbossilico, semplicemente perché presenta questo gruppo carbossilico. Questo gruppo carbossilico è collegato, che è connesso a un carbonio 1, è collegato a un carbonio 2, che viene anche detto il carbonio alfa. Il carbonio alfa che cos'è? È il carbonio che è vicinale al carbonio carbossilico. Il carbonio beta invece è quello vicinale al carbonio 2, quindi carbonio alfa e carbonio beta. Ok? Perfetto. Allora, chimicamente cos'è l'acido piruvico? È un alfa chetoacido. Perché è un alfa chetoacido? Perché in posizione 2, in posizione alfa per meglio dire, presenta un gruppo chetonico ed è un acido perché presenta questo gruppo funzionale acido. Perché è un acido? Perché è un alfa chetoacido? Perché presenta, ti dicevo, questo gruppo in posizione alfa, che è un chetone. È semplicemente un chetone perché abbiamo un carbonile che lega due gruppi R diversi tra loro, il primo gruppo R è il gruppo carbossilico, l'altro gruppo R è il metile. Allora, e poi è un acido semplicemente perché presenta questo acido, questo gruppo acido che è il gruppo carbossilico. Ti evidenzio subito una parte. Se vogliamo, l'acido piruvico, che è la, diciamo, forma protonata del piruvato, è composto da due porzioni. La porzione carbossilica, quella che dà il nome all'acido, e poi la porzione invece acetilica, perché questo qua, alla fine, non è altro che un acetile. Cioè, formato da un carbonile e un metile. Questa regione qua, carbonile più metile, carbonile più metile, è l'acetile. E questo ci tornerà terribilmente utile tra pochi minuti. Allora, l'acido piruvico però viene normalmente deprotonato, da un eccesso di ioni OH- presenti nel citoplasma delle cellule, a piruvato. Questa è semplicemente una reazione acido-base. L'acido piruvico è il nostro acido debole, l'acido carbossilico, l'acido organico, che viene deprotonato da che cosa? Da una base, ok? Questa qui è la nostra base. Perché abbiamo tanti OH-, cioè tante basi, tante specie elettron ricche all'interno del citoplasma? Perché il citoplasma delle nostre cellule fisiologiche è circa, più o meno, a livello di un po' più di 7, ok? È circa 7. Questo vuol dire che un pH che tende alla basicità, o comunque che è neutro alcalino, avrà una concentrazione di ioni OH- maggiore rispetto alla concentrazione di protoni. E quindi la tendenza a deprotonare un acido, essendo un ambiente con un'elevata concentrazione di basi, è spinta, ok? C'è questa tendenza a deprotonare gli acidi. Infatti una base, quindi uno ione ossidrile presente nel citoplasma, può casualmente accettare un protone da questo gruppo carbossilico, deprotonandolo e convertendoli in che cosa? Se questo è un acido e questa è una base, che cosa si viene a formare? Intanto si viene a formare una molecola d'acqua, che sarà il nostro acido coniugato, e poi si viene a formare anche che cosa? La base coniugata dell'acido pirubico. Perché si chiama base coniugata questa qua? Perché è una specie elettron ricca, perché questi due elettroni sono quelli che formavano prima il legame sigma, il legame covalente tra l'ossigeno e l'idrogeno. Adesso però sono finiti sull'ossigeno, ok? Quindi questa qui che cos'è? È semplicemente la base coniugata dell'acido pirubico. Quindi il piruvato è questo, una base coniugata dell'acido pirubico. Le basi coniugate però hanno una caratteristica chimica, solitamente sono cariche negativamente. Infatti in questo caso il piruvato è un anione, è la base coniugata dell'acido pirubico per la settesima volta, ma è carico negativamente. Questa cosa è molto, molto, molto importante. Perché è importante? Perché? L'obiettivo del piruvato qual è? Allora, il piruvato può avere due destini, ok? Una a venire convertito in lattato, e dopo cerchiamo di capire velocemente perché, l'abbiamo studiato nel ciclo di Cori, oppure il secondo destino, e questo è quello più prevalente in condizioni fisiologiche, è quello di entrare nella matrice mitocondriale e diventare substrato della piruvato da idrogenasi, quello di cui parliamo oggi. Il piruvato, come ti dicevo, è una specie carica, è una specie anionica, ok? Elettron ricca, e questo pone già un problema. Perché? Perché essendo carica negativamente e dovendo entrare all'interno della matrice mitocondriale, deve poter sorpassare le due membrane del mitocondrio. Per poter sorpassare le due membrane del mitocondrio, ovviamente non lo può fare per diffusione semplice, perché è una molecola carica, esattamente come il glucosio non può oltrepassare la membrana citoplasmatica, e ha bisogno dei glut, anche il piruvato ha bisogno dei suoi trasportatori specifici. Nella membrana mitocondriale esterna si trova un trasportatore noto come VDAC, che si chiama anche Voltage Dependent Anion Channel, cioè canale di trasporto per gli anioni, ok? È un canale di trasporto voltaggio dipendente per gli anioni, ok? Ed è un canale di trasporto passivo per gli anioni. Perché di trasporto passivo? Questo è molto semplice, perché la glicolisia avviene nel citoplasma e permette di produrre ad elevate concentrazioni sia l'acido piruvico che ovviamente il piruvato. E quindi questo si accumulerà all'interno del citosol e verrà trasportato per diffusione semplice all'interno della matrice mitocondriale. Una volta nello spazio intermembrana però il piruvato deve essere trasportato nella membrana mitocondriale interna e qui inizia il bello. Perché? Perché nella membrana mitocondriale, la membrana mitocondriale interna è ancora più selettiva rispetto alla membrana mitocondriale esterna. Perché è probabile che in realtà il piruvato possa passare sia attraverso questo trasportatore a specifico, VDAC, che anche attraverso alcuni pori che si trovano nella membrana mitocondriale esterna. La membrana esterna è più permeabile rispetto a quella interna, ma quella interna è chiusa ermeticamente, cioè passano le molecole soltanto se hanno una selettività, cioè soltanto se presentano un trasportatore. Ok? Bene. A questo punto il piruvato viene trasportato nella matrice mitocondriale grazie a questi due trasportatori che si chiamano MPC1 ed MPC2. Sono codificati da due geni diversi e sono definiti come MPC, cioè mitocondrial pyruvate carrier, carrier, cioè trasportatori del piruvato nella matrice mitocondriale. E dopo ci torniamo velocemente perché mutazioni a carico di questi due trasportatori potrebbero essere dei driver, una delle ragioni biochimiche molecolari, per un specifico effetto, noto come effetto Warburg, che si ritrova nel cancro. Ok? Anzi, te lo scrivo qua. Possibili difetti di questa condizione, possibili difetti di questo trasportatore del mitocondrio possono essere driver di quello che viene detto effetto Warburg. E questo sarà importante capirlo dopo. Ok? Bene. Continuiamo invece il nostro viaggio del piruvato. Una volta nella matrice mitocondriale il piruvato diventa substrato, deve diventare substrato di quello che viene detto PDH, piruvato de idrogenase complex, complesso della piruvato de idrogenasi. Il complesso della piruvato de idrogenasi, di cui tra poco vediamo la struttura, è un complesso multienzimatico, multiproteico, in realtà è un super complesso, che ha la funzione, attenzione, di convertire il piruvato, il nostro alfa chetoacido, alfa chetoacido, da essere quindi da piruvato, che abbiamo capito essere la base coniugata dell'acido piruvico, ad acetilcoenzima A. Ok? Il suo obiettivo quindi qual è? Prendere il piruvato, staccare questo gruppo acetilico, carbonile più metile, decarbossilare il piruvato, infatti vedi che la CO2 fuoriesce, cioè questo gruppo carbossilico fuoriesce, rompere questo legame C1-C2 e trasferire questo gruppo acetile sulla molecola di coenzima A. Quindi vedi che questo zolfo del coenzima A, questo gruppo tiolico in realtà del coenzima A, verrà legato covalentemente a questo carbonio carbonilico alfa e si andrà a formare l'acetil, che deriva dal piruvato, coenzima A. Quindi si viene a formare, si viene a rompere questo carbonio, che è questo legame carbonio 1-carbonio 2, carbonio 1-carbonio alfa, il piruvato viene decarbossilato e quindi si rompe questo legame e l'acetile non viene liberato nella matrice mitocondriale, ma viene legato a dei specifici cofattori che dopo vediamo. Comunque quello che succede è che questo acetile viene trasferito allo zolfo del gruppo tiolico del coenzima A, andando a formare l'acetil coenzima A. L'acetil coenzima A adesso capiamo che cos'è, ma prima ti voglio far vedere una cosa. Quali sono gli altri agenti, tra virgolette, gli altri, tra virgolette, attori di questa reazione? Il piruvato a questo punto per essere convertito in acetil coenzima A ha bisogno del coenzima A, che è un altro reagente, che deriva da dove? Deriva dal citoplasma, no? Perché il coenzima A viene sintetizzato partendo dal pantotenato attraverso le 5 tappe biosintetiche che abbiamo visto nello scorso video. Il coenzima A poi viene trasportato dentro la matrice mitocondriale e serve come substrato per la piruvata di idrogenasi. Gli altri cofattori, perché il coenzima A in realtà è un reagente, gli altri cofattori, gli altri gruppi prostetici, cioè sono, cosa sono i gruppi prostetici? Sono delle molecole organiche, derivate solitamente da vitamine, ma non è detto, che legandosi in modo covalente o non covalente con il sito attivo dell'enzima, ne permettono la reazione, ne permettono la reattività. Quando i gruppi prostetici vengono rimossi dal nostro enzima, allora l'attività catalitica dell'enzima crolla quasi a zero. I gruppi prostetici in questo caso dell'enzima sono la tiamina pirofosfato, il FAD, il lipoato e il NAD+. Ok? La reazione quindi richiede questi quattro cofattori, questi quattro gruppi prostetici e come reagente e due reagenti, il piruvato, deriva dalla glicolisi, e il coenzima A, deriva dalle tappe biosintetiche citoplasmatiche. Ora, una parola veloce. Questa reazione qua è una decarboossilazione ossidativa. È una decarboossilazione ossidativa perché? Perché decarboossiliamo il piruvato in CO2, e questo lo vediamo molto bene, la CO2 fuoriesce dalla reazione come prodotto, è una molecola apolare, diffonde liberamente fuori dalla cellula, ok? Questo è il motivo per cui noi dobbiamo esalare CO2, ok? La CO2 infatti noi la produciamo dalle reazioni di decarboossilazione, ed è una reazione non solo di decarboossilazione, ma è anche ossidativa perché? Perché produciamo del NADH. Cosa vuol dire? Vuol dire che come altro cofattore noi abbiamo bisogno del NAD+. Il NAD+, che cos'è? È un cofattore ossidato. Ossidato perché? Perché ha elettroni in meno. Essendo ossidato, ha un elevato potenziale di accettazione di elettroni, se vogliamo. Cioè ha un'elevata capacità di accettare dei protoni, di ossidare altre specie chimiche. Essendo ossidato infatti, il NAD+, ha la capacità di fungere, di agire, da gente ossidante, ok? E quindi va a rimuovere degli elettroni. Andando a rimuovere degli elettroni, che vengono rimossi sotto forma di ione idruro, capiremo perché e dove, questa reazione qua di rimozione di questi elettroni, quindi di ossidazione, no? Lui ossida una specie chimica, che si ossida, e lui, mentre funge da gente ossidante, si riduce. Quindi è una decarboossilazione, per decarboossilazione cioè rimozione di questo gruppo carbossilico in CO2, ossidativa perché il NAD+, funge da agente ossidante, cioè accettore di elettroni, e viene ridotto, lui si riduce a NADH. Ora, il NADH che fine fa? Il NADH viene prodotto in realtà sia... vediamo... il NADH che fine fa? Il NADH diventa substrato, ok, del complesso 1 della catena di trasporto degli elettroni. Il NADH è un agente riducente a questo punto, perché? Perché il NAD+, ha ossidato, lui era ossidato, funge da agente ossidante, cioè accettore di elettroni, ha accettato degli elettroni e si è ridotto. Ha accettato in realtà quanti? Due elettroni e un protone, cioè uno ione idruro. Questo ione idruro qua, sotto forma di NADH, viene donato, viene donato a cosa? Al complesso 1 della catena di trasporto degli elettroni, che sono diverse proteine di cui poi parleremo, che hanno la funzione di accettare cofattori ridotti, NADH e FADH2, che doneranno i loro elettroni e permetteranno quindi di donare questi elettroni fondamentalmente questi... facciamo una cosa. Il NADH viene ridotto, ok? Si riduce. Il NADH finisce, viene diffonde nella matrice mitocondriale e raggiunge il complesso 1 della catena di trasporto degli elettroni, che si trova nella membrana mitocondriale interna. Il NADH a questo punto cosa fa? Dona questi suoi due elettroni, 1 e 2, 1 e 2, e dona anche questo suo protone che viene liberato. Questi due elettroni che vengono trasferiti attraverso il complesso 1 della catena di trasporto degli elettroni verso gli altri complessi, fino poi all'ossigeno, che è l'accettore terminale di questi elettroni che verrà poi ridotto ad acqua, ok? Ma questo è il tema di un altro video, ma giusto per capirci. Il flusso di questi elettroni attraverso il complesso 1 ne causerà un cambiamento conformazionale, che permetterà che cosa? Il transito dei protoni da dove? Dalla matrice mitocondriale, dove vengono prodotti per deprotonazione del NADH, dalla matrice mitocondriale nello spazio intermembrana. Lo spazio intermembrana, quindi a forza di avere, di pompare, di sentire che questi protoni vengono pompati dentro di lui, il suo pH si abbassa. Si abbassa di molto il suo pH, diventa acidico e quindi la concentrazione di protoni, per questo quindi la concentrazione di protoni aumenta, il pH diminuisce e quindi questo poi favorirà, questo permetterà poi di creare una differenza di un gradiente elettrochimico tra lo spazio intermembrana e la matrice mitocondriale che poi permetterà attraverso un processo la sintesi dell'ATP, ok? Quindi l'obiettivo di questa reazione qual è? Gli obiettivi sono tre. L'obiettivo è quello di decarbossidare il piruvato per permettere il trasferimento dell'acetile all'acetilcoenzima A e l'altro obiettivo qual è? Quello di andare a formare NADH che servirà in ultima analisi per produrre ATP. Ora capiamo un attimo qual è l'energetica della reazione, qual è la biochimica tra virgolette la termodinamica di questa reazione. Dobbiamo rispondere a una e una sola domanda. La reazione è favorita? Sì. Dal punto di vista energetico questa reazione è favorita. E da cosa lo capiamo? Lo capiamo andando a studiare quella che viene detta energia libera di Gibbs, questa qua. L'energia libera di Gibbs è l'energia che viene assegnata ad ogni reazione enzimatica, ok? Ogni reazione enzimatica ha una specifica energia libera, ok? Quando questa energia, in questo caso l'energia libera di questo complesso è di meno 33,4 kJ per mole, ok? Vuol dire che per ogni mole di pirovato vengono rilasciate meno 34, o meglio, 34,33,4 kJ, ok? Il meno cosa sta a indicare? Allora, fisicamente una energia negativa non ha senso, ok? Un'energia negativa non ha senso quello che indica questo meno indica che, indica tra virgolette il verso della reazione, mi spiego. Essendo negativa ci fa capire che la reazione tende ad essere in un verso ben specifico, dal piruvato verso l'acetilcoenzima A, dal reagente verso il prodotto. Quindi la reazione è fortemente esoergonica, cioè la reazione di decarboossilazione ossidativa del piruvato, decarboossilazione ossidativa, questo ossida, lui ossidato, si comporta come agente ossidante e si riduce, poi questo finisce al complesso 1, quindi la reazione di decarboossilazione ossidativa catalizzata dal piruvato di idrogenasi è una reazione che libera energia, è una reazione che quindi tende ad avvenire, tende ad avvenire ed è una reazione irreversibile, ok? Essendo una reazione che libera energia, ok, vuol dire che è una reazione irreversibile, perché per poter avvenire il contrario, ok, dovremmo superare questo gap di energia andando a fornire dell'energia dall'esterno. Quindi la reazione tende ad avvenire dall'acetilcoenzima A verso il, scusami, dal piruvato verso l'acetilcoenzima A, non verso il contrario, ok? Uno potrebbe dire, sì ma io so che usando l'acetilcoenzima A posso produrre altre molecole come per esempio il colesterolo, questo è verissimo, ma il processo avviene in maniera complementare, in maniera parallela, cioè prendo unità di acetilcoenzima A, le combino insieme, formo per esempio acetoacetilcoenzima A e posso formare dal lato corpi chetonici e dall'altro colesterolo per esempio, quello è vero, ma la reazione è quella, è una reazione collaterale rispetto alla piruvato di idrogenasi, cioè prende il prodotto della piruvato di idrogenasi e lo converte in qualcos'altro, quello può avvenire, ma non può avvenire in condizioni fisiologiche naturali la conversione dell'acetilcoenzima A nel suo reagente, il piruvato, ma deve avvenire, anzi avviene, la conversione del piruvato in acetilcoenzima A. Allora, il processo quindi di decarboossilazione oscillativa del piruvato in acetilcoenzima A fondamentalmente è una reazione che appunto avviene nell'ammatricio mitocondriale con la funzione di produrre acetilcoenzima A. La funzione poi della molecola acetilcoenzima A è quella di o servire come substrato per alcuni processi biosintetici, la chetogenesi o la genesi del colesterolo, un'altra, la funzione invece più, tra virgolette, semplice dell'acetilcoenzima A è quella di servire come molecola di partenza per il ciclo di Krebs, è un reagente nel ciclo di Krebs, ok? Vediamo un attimo qual è la chimica dell'acetilcoenzima A, cerchiamo di capirlo. Allora, abbiamo questo gruppo acetile che è formato da un carbonile e da un metile, che è legato attraverso il legame Tio estere, Tio indica lo zolfo, estere indica il carbonio carbonilico, ed è un legame Tio estere, i legami Tio esteri sono molto particolari, perché? Cioè perché hanno scelto, perché la natura ha scelto, si è evoluta, scegliendo, tra virgolette, selezionando l'acetilcoenzima A che presenta questo legame Tio estere e non qualcos'altro? Beh, perché il legame Tio estere ha delle caratteristiche chimiche ben precise. Questo qui è un legame estere normale, questo è il carbonile, e questo è l'ossigeno, ok? R2, R1. Questo qui è il legame estere tra l'ossigeno e il carbonio carbonilico. Perché la natura non ha scelto un legame estere? Perché ha scelto un legame Tio estere? Perché il legame Tio estere ha un'elevata energia libera di idrolisi, cioè il legame Tio estere è instabile, è più instabile del legame estere. La ragione è una ragione chimica che adesso non vediamo per ragioni di tempo, ma in realtà è legata semplicemente alla sovrapposizione degli orbitali P della struttura di risonanza. Cioè, nel legame estere, quello che ti ho fatto vedere prima, tra l'ossigeno e il carbonile, c'è una migliore sovrapposizione tra gli orbitali P della struttura di risonanza. Mentre, nel caso del legame Tio estere, c'è una minore sovrapposizione degli orbitali P nella struttura di risonanza di questo legame Tio estere, e quindi questo fa sì che il legame Tio estere sia più energetico, meno stabile rispetto al legame estere. Il legame Tio estere, essendo più instabile, vuol dire che tende a reagire più facilmente. Se tende a reagire più facilmente, vuol dire che il legame tende a essere idrolizzato con più facilità. Perché? Appunto perché è molto reattivo. Se è molto reattivo, quando viene idrolizzato, libera moltissima energia. Risegui il concetto. Perché la natura ha selezionato il legame Tio estere? Il legame Tio estere avviene tra lo zolfo e il carbonio carbonidico. Il motivo per cui la natura ha selezionato il legame Tio estere, nell'acetilcoenzima come molecola di partenza, è perché il legame Tio estere è un legame energetico. E perché è un legame energetico? Perché è un legame instabile. Essendo un legame instabile, vuol dire che tende a reagire. Se tende a reagire, vuol dire che quando viene idrolizzato questo legame, quando viene scisso, rotto, vorrà dire che libereremo molta energia. Anche questo, come la reazione del complesso della pirovatoidrogenasi, è una reazione esoergonica. È una reazione che, quando avviene, libera molta energia. Quindi la molecola di acetilcoenzima è una molecola pronta a reagire. È una molecola che contiene dentro di sé molta energia. Infatti, ha un'elevatissima energia libera di idrolisi, pari circa a quella del complesso della pirovatoidrogenasi, che è pari circa a meno 31.4 kJ per mole. Ok? Ora, prima di vedere nel dettaglio qual è la struttura del complesso della pirovatoidrogenasi, volevo tornare un attimo su. Volevo tornare un secondo a quello che ti ho accennato prima, cioè l'effetto Warburg. Il pirovato, per entrare nella matrice mitocondriale e diventare substrato del complesso della pirovatoidrogenasi, deve per forza passare attraverso il complesso MPC1-MPC2. Nell'80% dei tumori si è visto che questo complesso è mutato. Per esempio, o per ipermetilazione del promotore, che non fa esprimere il gene, i due geni che codificano per questo complesso funzionante, o semplicemente perché i geni, le sequenze codificanti, sono mutate. Se questo trasportatore è mutato, ok, e si trova mutato nell'80% di molti tipi di tumori, per esempio nei gliomi, nell'80% dei gliomi questo trasportatore è mutato, questo che cosa fa? Fa sì che il pirovato entri all'interno dello spazio intermembrana e si accumuli qui. Se si accumula dentro lo spazio intermembrana, a un certo punto l'equilibrio si reverte, quindi il pirovato rincomincia a uscire. Quindi fondamentalmente il pirovato si riaccumula nel citosol, ok? Se il pirovato si riaccumula nel citosol, qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo tantissimo NADH, ok? Abbiamo tanto NADH. Abbiamo NADH dalla glicolisi e abbiamo pirovato. E quindi cosa abbiamo imparato nei video precedenti? Che quando abbiamo tanto NADH e abbiamo pirovato, ma il pirovato per qualche ragione non può essere ossidato nella matrice mitocondriale, questa ossidazione del NADH a NAD+, e questa conversione del pirovato in qualcos'altro, che ora nel citosol il pirovato è inutile, il pirovato dovrà diventare qualcos'altro. Che cosa? Lattato. Il pirovato diventerà lattato, ok? Il pirovato a questo punto diventerà lattato e il NADH verrà ossidato a NAD+, il pirovato verrà ridotto a lattato e il NADH verrà convertito in NAD+. Questo processo verrà catalizzato dal lattato di idrogenasi. Perché ti dico questo? Perché questa reazione qua fondamentalmente, che cos'è? È una reazione, è una fermentazione se vogliamo. È una reazione di fermentazione che però avviene anche in presenza di ossigeno. Cioè mi spiego, in questa reazione qua, in questo specifico effetto, la reazione di riduzione del pirovato, il lattato, che ti scrivo, ti scrivo un attimo il lattato, che presenta questo gruppo carbossilico, questo OHH e questo metile, questo è il lattato, il processo di riduzione del pirovato a lattato in realtà avviene, ha catalizzato l'attato a l'idrogenasi, perché? Non perché non abbiamo ossigeno, perché l'ossigeno ce l'abbiamo, ma perché il pirovato si è accumulato nel citoplasma e deve servire come accettore di elettroni da parte del NADH che se no non si potrebbe più ossidare NADH più e far continuare la glicolisi. Quindi il processo in questo caso di fermentazione lattica avviene non perché siamo in anaerobiosi, ok? Ma perché semplicemente siamo in un processo in cui il pirovato non può entrare nella matrice mitocondriale e produrre le sue circa 30 molecoli ATP che produrrebbe dal ciclo di Krebs. Non so se mi spiego. Questo succede perché è mutato il trasportatore MPC. Quindi per questa ragione l'effetto Warburg è proprio l'effetto per cui avviene il processo di glicolisi aerobia. Normalmente quando siamo in condizioni fermentative abbiamo una bassa pressione parziale di ossigeno e quindi abbiamo il processo di fermentazione proprio perché dobbiamo andare a riprodurre le molecole di NADH più, ok? in modo alternativo rispetto alla catena di trasporto degli elettroni e quindi abbiamo una fermentazione. In questo caso però, e quindi nel caso di fermentazione abbiamo la glicolisi anaerobia perché non c'è ossigeno che serva come accettore di elettroni. In questo caso però abbiamo il processo di glicolisi aerobia che è proprio l'effetto Warburg. L'effetto Warburg quindi è la glicolisi aerobia perché abbiamo un accumulo di pirovato dovuto per esempio per esempio l'effetto Warburg può essere anche guidato da molte altre cause. Una di queste è la mutazione a livello di questo trasportatore e quindi abbiamo la conversione del pirovato in lattato per far sì che la cellula possa sopravvivere. Perché questo è un problema? Perché il lattato può fare tantissime cose nelle cellule tumorali. Il lattato può essere, va, intanto è un acido quindi va ad acidificare l'ambiente cellulare. Oppure si è visto anche che il lattato può entrare nel nucleo e andare a modificare covalentemente gli stoni. Si è visto anche inoltre che il lattato può uscire dalla cellula attraverso il trasportatore degli acidi che noi abbiamo chiamato, che si chiama MCAT che abbiamo visto nel ciclo di Cori e in monocarbocylated acid transporter e una volta fuori dalla cellula può andare a segnalare attraverso degli specifici recettori per fattori di crescita andando a segnalare in maniera autocrina e paracrina la via del segnale di crescita cellulare. Quindi secondo alcuni studi l'effetto Warburg, ok, può essere guidato dalla mutazione di questo trasportatore e questo può portare, secondo sempre alcuni studi, alla trasformazione neoplastica. Quindi insieme a tantissime altre mutazioni, ovviamente perché la cancerogenesi è un processo complesso, insieme a queste altre tantissime mutazioni la mutazione in MPC può essere uno dei driver della cancerogenesi, proprio guidata dall'effetto Warburg. Ok, torniamo a noi. Vediamo adesso cos'è, com'è il complesso della piruvatoidrogenasi. È questa bestia qua. Il complesso della piruvatoidrogenasi, ti dicevo prima, è un complesso multienzimatico complesso, appunto, perché è formato di base da tre enzimi, E1, E2 ed E3. Vedi qua, E1, E2, E3. Ciascuno di questi tre enzimi catalizza una specifica tappa di reazione. Perché non te l'ho detto? Perché il complesso della piruvatoidrogenasi, cioè per convertire il piruvato da qua, decarbostilarlo e trasferire l'acetile al coenzima A per formare l'acetil coenzima A, ci servono tre tappe. Una, due, tre. Le prime due catalizzate dall'enzima E1 e la terza tappa, quella di transacetilazione, dopo vediamo, verrà catalizzata dall'enzima E2. Le ultime due tappe, cioè il complesso della piruvatoidrogenasi, un unico ciclo è formato da cinque sottostep di reazione, le ultime due tappe serviranno poi per riformare i cofattori enzimatici nella maniera corretta. Il complesso della piruvatoidrogenasi però non è formato da singole copie di ciascun enzima, ma è formato da multiple copie di ciascun enzima. Questo perché? Per far sì che le possono avvenire più reazioni di ossidazione e di decarbostilazione del piruvato contemporaneamente, ok? Ovviamente perché non entra una sola molecola di piruvato, ma entrano N molecoli di piruvato che devono essere tutte quante convertite in unità di acetil coenzima A insieme. Oltre a questi tre enzimi, tra virgolette, funzionali, ok, che hanno la funzione proprio catalitica, esistono anche altre due proteine che sono adese al complesso della piruvatoidrogenasi che hanno funzione regolatoria, che vediamo alla fine, che si chiamano una proteina kinasi e la fosfoproteina fosfatasi. Iniziamo a vedere qual è il processo di reazione, ok? Il piruvato viene subito, la prima tappa di reazione è quella che avviene a livello dell'enzima E1, che si chiama piruvatoidrogenasi. Quindi il complesso si chiama complesso della piruvatoidrogenasi e l'enzima E1 prende il nome dal complesso, o meglio, il complesso prende il nome dall'enzima E1. La prima tappa prevede di decarbossilare subito il piruvato, cioè di rompere questo legame qua, di rompere questo legame qui, e andare quindi a decarbossilare il piruvato. La CO2 esce attraverso diffusione libera transmembrana. Di questo ne abbiamo parlato parlando della legge di Fick. Una volta avvenuta la rottura di questo legame, abbiamo la riduzione di questo carbonile, carbonio doppio legame ossigeno, in ossidrile, ok? Quindi abbiamo una riduzione di questo carbonile in ossidrile e il legame covalente di questa unità di idrossi etile, che deriva sempre dall'acetile, in, quindi questa unità di acetile viene ridotta in idrossi etile e viene covalentemente legata alla TPP, diamina pirofosfato, che è il primo cofattore legato all'enzima E1. Quindi per ricapitolare, la prima reazione che cos'è? È una reazione di decarbossilazione che permette di formare un intermedio noto come idrossi OH, che deriva dalla, se vuoi, dalla riduzione dell'acetile, idrossi etil tiamina pirofosfato, ok? Tra poco poi vediamo come avviene realmente la reazione, ok? Una volta formato però questo idrossi etil TPP, quindi idrossi etil, perché etil perché abbiamo due carboni, uno e due. Ricordati che il, abbiamo per esempio metano, etano, etano indica due carboni, ok? Quindi idrossi etil tiamina pirofosfato. Qual è il problema? Il problema è che noi vogliamo fare questo, cioè vogliamo convertire il coenzima in acetil coenzima, non idrossi etil coenzima. Quindi dobbiamo andare a riossidare l'idrossi etile. Come facciamo a riossidarlo? Grazie a questa struttura particolare, che si chiama l'ipoillisina ossidata, che sarà in grado di reagire con l'idrossi etile, andando a riformare il TPP, la tiamina pirofosfato, che gli permetterà di fare la seconda ciclo catalitico, e poi andiamo a formare, che cosa? Andiamo a riformare, in questo quindi secondo step di reazione, andiamo a riformare l'acetil coenzima. Quindi il secondo step prevede di rompere il legame che c'è tra l'idrossi etile e il TPP e andare a ossidare l'idrossi etile a acetile. Questo viene fatto dalla lipoillisina ossidata. Che cos'è? Questo è il gruppo lipoilico, ok? Questa è una funzione lipoilica, che deriva dall'acido lipoico, che è una molecola, anche questo è un cofattore non vitaminico, che però è fondamentale. Perché è fondamentale? Allora, questa porzione qua è un acido, ok? È quello che resta di un acido carbossilico, che però per funzionare deve essere covalentemente legato attraverso il legame ammidico a una lisina dell'enzima. Questa regione, vedi che è molto lunga, contiene 1, 2, 3, 4, 5 atomi di carbonio che separano la lisina con questa testa qua. Perché questo è importante? Perché funge da braccio spaziatore biologico. Il concetto dei braccio spaziatori è molto importante in molti enzimi. L'abbiamo visto nella piruvato-carbossilasi ed è importante perché permette di unire, ok? Permette di, tra virgolette, di unire, di connettere diverse regioni di uno stesso enzima o di uno stesso complesso enzimatico, ok? In questo caso la lipoillisina è ossidata nella prima fase, cioè si è formato questo ponte di solfuro. Nella seconda tappa di reazione, quella che converte l'idrossietil TPP a, che libera il TPP e converte l'idrossietile ad acetile, abbiamo la riduzione di uno dei due zolfi, quindi abbiamo la rottura di questo ponte di solfuro, uno dei due zolfi accetta un protone, dopo vediamo come, e si forma il gruppo teolico, e invece poi si forma che cosa? Un altro legame tioestere tra questo zolfo qui e il carbonio carbonilico, a questo punto, della idrossietil TPP ossidata e quindi si forma che cosa? Un gruppo tioacetilico, cioè tio per lo zolfo, acetile è quello che resta dall'idrossietile ossidato, spero che si capisca. Perché è importante trasferire questo gruppo idrossietilico allo zolfo e quindi formare questo tioacetile, quindi formare questo tioestere, ricordati che è un legame estere classico, un legame in cui è l'ossigeno legato a un carbonio carbonilico, mentre in questo caso è un legame tioestere perché al posto dell'ossigeno hai lo zolfo, ok? Perché è importante? Perché a questo punto avviene la terza reazione, la reazione di transesterificazione, in cui lo zolfo del coenzima A va ad attaccare il carbonio carbonilico dell'acetile legato allo zolfo della cilipoillisina, ok? E a questo punto si viene a rompere questo legame tioestere e se ne forma un altro. Quindi si forma un legame tioestere a scapito della rottura di un altro, per quello si chiama transesterificazione, si forma quindi l'acetilcoenzima A. La rottura di questo legame tioestere a livello della cilipoillisina porta a formare che cosa? Porta a ridurre completamente il nostro cofattore in due gruppi tiolici, la ditiolo-lipoillisina. A questo punto la seconda tappa di reazione avviene a carico sempre della pirovatoidrogenasi, quindi che permette di fare il prima e la seconda tappa. La terza tappa di reazione invece avviene a carico dell'enzima E2. A questo punto abbiamo la ditiolo-lipoillisina che è stata formata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo permettere alla ditiolo-lipoillisina di ossidarsi di nuovo, di ossidarsi di nuovo e di diventare quindi l'ipoillisina ossidata per poter permettere l'ossidazione dell'idrossetil-TPP ad acetile e quindi far sì che la reazione di transesterificazione successiva possa avvenire. Come facciamo a ossidare questi due tioli a ponte di solfuro? Grazie al FAD. Il FAD, che è un cofattore dell'enzima E3 di idrolipoillisina deidrogenasi, ok? L'enzima E2 si chiama di idrolipoillisina transacetilasi perché trasferisce questo gruppo acetilico, ok? Che infatti l'unica reazione catalizzata dall'enzima E2 è questa transacetilazione. La tappa 4 catalizzata dall'enzima E3 invece permette di usare il FAD ossidato, che funge da agente ossidante, e ossidare la lipoillisina ridotta a ossidata. A questo punto il FAD si riduce perché accetta questi due questi due ioni idrure, in realtà poi è un po' diverso, però per capirci dopo lo vediamo, e diventa quindi ridotto in FADH2. Questo FADH2 ridotto a questo punto però non può più funzionare, perché? Perché funziona soltanto quando è ossidato, perché? Perché deve ossidare la ditiololipoillisina ridotta. Quindi questo FADH2 deve essere riossidato a FAD e questo lo fa il NADA, il NAD+. Il NAD+, sempre con fattore dell'enzima E3, nella tappa 5, va a ossidare il FADH2 in NADH. A questo punto il NADH che cosa fa? Diffonde liberamente e diventa substrato, tra virgolette, va a donare i suoi due elettroni e il protone al complesso 1 della catena di trasporto degli elettroni. Prima di passare ad analizzare la chimica delle singole reazioni, dobbiamo cercare di capire in che modo questo complesso viene regolato, perché come abbiamo visto in altre reazioni, molte tappe, tutte in realtà le vie metaboliche, sono regolate e in questo caso la piruvatoidrogenasi non fa eccezione. Anche la piruvatoidrogenasi viene regolata, infatti viene regolata in uno specifico punto. Solitamente, allora, noi possiamo vedere il complesso della piruvatoidrogenasi come una serie di reazioni, ok? Possiamo vederla come una piccola via metabolica in cui avvengono 5 reazioni. In questo caso la prima di queste cinque reazioni è quella che viene regolata, cioè la conversione, la decarbossilazione del piruvato e la riduzione del gruppo carbonilico. Questa reazione, questo primo step, è quello che è il limitante, cioè quello più lento. Perché? È lo step più lento perché è quello che permette di andare a riconoscere il piruvato, cioè quello che permette di andare a fare quella che in biochimica si definisce specificità di substrato. Quindi una volta che il substrato è stato riconosciuto, cioè il piruvato è stato legato, allora la reazione può avvenire. Essendo quindi lo step limitante è anche quello che viene regolato. In che modo viene regolato? Adesso lo vediamo. Viene regolato in questo modo. Allora, la piruvatoidrogenasi viene regolata in due modi. Attraverso regolazioni allosteriche, ok? Cioè regolazioni in cui il metabolita, uno specifico metabolita, lega un sito allosterico, cioè un sito diverso rispetto al sito ortosterico, cioè quello in cui avviene la reazione. Quindi abbiamo sia regolazioni allosteriche che regolazioni covalenti. Ora vediamo, iniziamo da quelle allosteriche. Intanto cos'è il sito allosterico? È un sito dell'enzima diverso rispetto a quello in cui avviene la reazione, cioè rispetto a quella in cui il substrato viene convertito in prodotto. Nel sito allosterico non avviene alcun tipo di trasformazione biochimica, ma nel sito allosterico si legano degli specifici metaboliti che vanno a modificare il sito di legame allosterico, il quale di conseguenza, cambiando conformazione tridimensionale, va a cambiare anche conformazione al sito ortosterico, andando quindi a modificare la sua affinità per il substrato e quindi andando a regolare positivamente o negativamente la reazione. Abbiamo regolazioni allosteriche sia positive che negative. L'AMP, il coenzima A, il NADPU e il calcio sono regolatori allosterici positivi, cioè promuovono l'affinità di reazione, cioè promuovono la conversione del piruvato ad acetilcoenzima A. Perché? L'AMP è quando c'è un'elevata concentrazione di AMP nelle cellule e indice del fatto che la cellula sta utilizzando molto ATP, cioè sta facendo molte reazioni di fosforilazione e quindi sta usando l'ATP e lo sta convertendo in ADP-AMP. Quindi quando c'è molto AMP significa che c'è poco ATP. Se c'è poco ATP significa che la cellula ha bisogno di nutrienti e come fa a produrre questo ATP? Lo può produrre principalmente in due modi, o con la glicolisi, in realtà in diversi modi, ma o con la glicolisi o con la catena di trasporto degli elettroni, ok? Quindi per produrre ATP in maniera più efficiente in realtà c'è bisogno della catena di trasporto degli elettroni. Per produrre però ATP dalla catena di trasporto degli elettroni, abbiamo bisogno di NADH e di FADH2. Quindi per questa ragione qui l'AMP va a regolare positivamente il complesso della piruvato idrogenasi perché così facendo stimola la conversione del piruvato in acetilcoenzima A, il quale andrà poi a produrre di conseguenza nella quinta tappa NADH come prodotto collaterale ma che sarà fondamentale per permettere la donazione di questi elettroni al complesso 1 della catena di trasporto degli elettroni e permettere quindi la produzione massiccia di ATP. Inoltre permetterà anche la produzione di acetilcoenzima A che di conseguenza entrerà nel ciclo di Krebs, il quale produrrà altro NADH e FADH2. Così uguale anche il NAD+. Se c'è tanto NAD+, ok, che è non solo il substrato di questa reazione qua, ma è anche il substrato di tutte le reazioni di deidrogenazione che abbiamo nelle cellule. Se c'è tanto NAD+, significa che tanto NADH viene utilizzato, che quindi fondamentalmente vuol dire che tanto NADH viene ossidato dalla catena di trasporto degli elettroni e quindi tanto NAD+, si accumula. Se c'è tanto NAD+, significa quindi che la cellula è in insufficienza energetica e di conseguenza il NAD+, si legherà a questo sito all'osterico e andrà a promuovere la conversione del piruvato in acetilcoenzima A, il quale di conseguenza permetterà da un lato di produrre questo NAD+, di convertire il NAD+, ma dall'altro di produrre altro NADH e FADH2 dal ciclo di Krebs grazie ad acetilcoenzima A. Il coenzima A? Il coenzima A è semplicemente un substrato. Se c'è tanto coenzima A, in questo caso è semplicemente un substrato. Quindi vuol dire che se c'è un'elevata concentrazione di coenzima A, questo andrà a promuovere la reazione. Dall'altro lato invece il calcio. Perché il calcio? Perché il calcio è un mediatore fondamentale non solo dei patue di segnalazione intracellulare, ma anche della contrazione muscolare. Quindi questo è più che altro un regolatore all'osterico nel miocita scheletrico. Questo può venire anche la miocita cardiaco, ok, o liscio, ma in generale è del miocita. Quindi il calcio, quando, per esempio, prendiamo un miocita scheletrico velocemente, quando abbiamo la depolarizzazione della cellula muscolare per arrivo della acetilcolina, il calcio fuoriesce dal reticolo sarcoplasmatico e va a iniziare il processo, permette di iniziare il processo di scorrimento delle molecole di actine e miosine, quindi permettere l'accorciamento del sarcomero e quindi la contrazione muscolare. Quando quindi c'è un'elevata concentrazione di calcio dentro la cellula, questo calcio rilasciato dal reticolo sarcoplasmatico entra nel citoplasma. Questo calcio fluisce dentro la matrice mitocondriale, va a legare il sito all'osterico della piruvatoidrogenasi e va quindi a promuoverne l'attività e convertire quindi il piruvato in acetilcoenzima. Perché? Perché andrà quindi a dire alla piruvatoidrogenasi che c'è bisogno di acetilcoenzima A, perché c'è bisogno di andare a sintetizzare nuovi cofattori ridotti perché c'è necessità di produrre ATP per contrarsi. Regolazioni negative invece sono mediate quando abbiamo una elevata disponibilità energetica, cioè quando la cellula è in riposo energetico e quindi è in stabilità energetica, è in stallo energetico. Quindi regolazioni all'osteriche negative permetteranno di mettere un po' a riposo il complesso della piruvatoidrogenasi perché la cellula dice vai tranquillo tanto io ho tanto ATP, tanto NADH e comunque tanto acetilcoenzima A. Quindi se ho tanto acetilcoenzima A vuol dire che ne viene usato poco, se ho tanto NADH vuol dire che non c'è bisogno di andare a, che questo NADH non viene donato alla catena di trasporto gli eltroni e se c'è tanto ATP significa che da un lato al muscolo non serve più di tanto e alle reazioni di fosforilazione neanche. Un'altra cosa è che quando la regolazione all'osterica negativa della piruvatoidrogenasi avviene anche quando abbiamo acidi grassi a lunga catena. Perché? Perché questo sono un segnale di nutrimento che viene beta-ossidato, una reazione del mitocondrio, all'acetilcoenzima. Lo vedremo più avanti. Esiste anche un altro tipo di regolazione che è una regolazione invece covalente. Questo è lo schema della piruvatoidrogenasi che presenta il complesso E1, E2 ed E3. Questo complesso è attivo quando non è fosforilato. Quando è fosforilato da una specifica chinasi, questa qua, quella che si trova proprio adesa al complesso, quando è fosforilato da una specifica chinasi, abbiamo un cambiamento conformazionale che ne impedisce la attività. Una fosfoproteina fosfatasi invece permetterà di fare la reazione opposta. Unica cosa. Qui esiste una relazione tra le modificazioni covalenti e quelle allosteriche. Perché? Perché la chinasi che va a fosforilare la serina in posizione sull'enzima E1, la sua attività viene stimolata dall'ATP. Quindi non solo l'ATP va a legare e inibire il, tra virgolette, rallentare l'attività di reazione legandosi al sito allosterico, ma dall'altro lato l'ATP va anche a legare la proteina a chinasi, ok? Va anche a legare la proteina a chinasi e va a fare cosa? Va a stimolarla, andando quindi a permettere una fosforilazione attraverso un'altra molecola di ATP che quindi andrà a inibire il complesso. Ora, ora abbiamo la parte più interessante, cioè dobbiamo capire in che modo avviene il meccanismo catalitico di ogni singola tappa di reazione. Partiamo dalla prima. La prima tappa di reazione, ti ricordo, è quella che permette la decarboossilazione di questo pirovato, la rottura del legame carbonio-1-carbonio-alfa e la riduzione del carbonile in idrossietile e il conseguente legame covalente alla tiamina pirofosfato, che è il cofattore dell'enzima E1. Per fare questo vediamo come avviene. Allora, la prima cosa di cui dobbiamo parlare è che cos'è la tiamina pirofosfato. La tiamina è questa molecola qua, ok? E questa molecola qui che deriva dalla... in realtà... sì, in realtà è questa molecola qui che deriva... scusami, la tiamina è la vitamina B1, ok? Che presenta questi diversi anelli, ma noi ci concentreremo soltanto su questo anello qua, che è l'anello tiazolico. Ti ricordo che stiamo guardando e cercando di capire in che modo avviene la formazione del complesso del legame idrossietil-TPP. Allora, a noi interessa soltanto l'anello tiazolico, però prima che la tiamina possa funzionare come cofattore deve essere fosforilata due volte, perché la tiamina viene assorbita, perché è una vitamina idrosolubile che noi non possiamo sintetizzare, però per prima cosa deve essere fosforilata, cioè deve essere preparata per potersi correttamente inserire nella tasca, nel sito attivo dell'enzima e di conseguenza poter fungere da catalizzatore, o meglio da gruppo prostetico. Allora, l'enzima che fa questo, cioè che fosforila due volte questo ossidrile legato all'anello tiazolico, è la TPP sintetasi, la tiamina pirofosfato sintetasi. Prende una molecola TP, la converte in una molecola di AMP e semplicemente ci attacca sopra due gruppi fosfato. Il pirofosfato terminale, come leggi qua, ha la funzione di interagire con dei residui basici della tasca enzimatica, permettendone quindi di stabilizzare questa tiamina pirofosfato all'interno della tasca stessa e quindi permettere il corretto orientamento dei siti, dei reagenti, per permettere quindi la reazione. A noi interessa soltanto l'anello tiazolico. Si chiama tiazolico perché tia, il prefisso tia indica lo zolfo, zolico indica questo azoto. Allora, questo anello tiazolico te l'ho riportato qua perché è l'unica parte reattiva che ci interessa. Ti faccio subito notare il fatto che in questo caso qui abbiamo un azoto che è quaternario perché è legato a quattro gruppi. L'azoto fa parte del quinto gruppo della tavola periodica e quindi per raggiungere l'ottetto ed essere stabile lui ha la necessità di formare tre legami. In questo caso ne forma quattro e quindi si carica positivamente. Questa carica positiva sull'azoto sarà quella poi responsabile della reattività di questo cofattore. Infatti la prima reazione è la deprotonazione del carbonio, di questo specifico carbonio e la deprotonazione di questo carbonio in seguito all'attacco di una base. Una base dell'enzima E1 infatti va a attaccare questo idrogeno qui e va a far collassare questi due elettroni sul carbonio qui. Quello che ti chiederai è ma perché questo idrogeno dovrebbe essere acido? Noi sappiamo, abbiamo sempre detto che l'idrogeno è acido quando è legato a una specie elettronegativa. In questo caso però è acido non perché è legato a quel carbonio lì, ma perché quel carbonio lì, quello in rosso, è legato a un azoto carico positivamente. Ed essendo carico positivamente questo azoto è come se attirasse verso di sé gli elettroni, sia quelli del legame immunico con il carbonio che quelli del legame che il carbonio instaura con l'idrogeno e quindi è come se rendesse questo carbonio più elettronegativo, perché come se facesse le veci del carbonio, perché come lui è questo azoto è positivo, non vede l'ora di accettare un doppietto elettronico per negativizzarsi, ma lui che cosa fa? Per far in tutti i modi di accettare di negativizzarsi e quindi va ad attirare grazie alla sua elettronegatività gli elettroni del legame, anche del legame tra il carbonio e l'idrogeno. Quindi è come se il carbonio diventasse più elettronegativo di quello che è e questo idrogeno ovviamente è come se diventasse più elettron positivo di quello che è. Di conseguenza una base, qualunque, va ad attaccare facilmente questo idrogeno acido e quindi lo deprotona. Si forma questo carbanione. In realtà è molto importante questo, perché si forma un carbanione? Perché è importante che si formi un carbanione? Perché i carbanioni sono instabili. Nonostante ci sia l'azoto che mantiene questi due elettroni vicini al carbonio, comunque il carbonio di per sé non è abbastanza elettronegativo da attirare a sé gli elettroni del legame e mantenerli, ok? E destabilizzarli. Poi se tu vedi non si può formare neanche nessuna struttura di risonanza in questo momento che stabilizzi il sistema. Quindi questo sistema è molto prono a reagire, questo carbonio è molto molto nucleofilo. E quindi che cosa va a fare? Entra adesso in gioco il piruvato, che è il nostro alfa chetoacido. Questo è il carbonio carbonilico, dove ti ho indicato il legame sigma e il legame pi greco, che sono i due legami che si formano, che vanno a formare il doppio legame, e poi il gruppo carbossilico. Il doppietto elettronico del carbanione attacca il carbonio carbonilico. Il carbonio però fa parte del quarto gruppo, quindi può formare al massimo quattro legami. Si trova con un legame in più e quindi va a delocalizzare gli elettroni del legame pi greco, che sono quelli, gli elettroni più disponibili. Va quindi a fare che cosa? Ad accettare un protone dall'ambiente. Questo doppietto elettronico si comporta come una base. Perfetto. Quindi cosa succede? Si forma questa struttura, questa struttura che è un intermedio, in cui il carbonio ha attaccato il carbonio alfa del piruvato, il quale a questo punto lega un gruppo ossidrilico. E qui già vediamo la formazione dell'idrossietile. A questo punto abbiamo sempre il nostro CO2, la nostra funzione carbossilica, la quale tende adesso a riarrangiarsi. Perché? Perché questi due elettroni tendono a collassare sul carbonio, proprio perché c'è questo azoto carico positivamente che tira tutti quanti gli elettroni. Quindi è il fatto che l'azoto sia quaternario che guida la reazione. Abbiamo quindi questa decarbossilazione, la rottura del legame tra il carbonio 1 e il carbonio 2, e di conseguenza abbiamo la formazione di un doppio legame. Abbiamo la decarbossilazione, questa CO2 fuoriesce, e abbiamo anche la formazione di un doppio legame tra il carbonio in rosso e il carbonio invece del piruvato, quello che era il carbonio 2. Questo carbonio lega anche il gruppo ossidrilico e lega anche il metile. A questo punto che cosa succede però? Quando abbiamo la chiusura sopra questo legame qui, cioè il legame tra il carbonio 1 e il carbonio 2 si rompe, abbiamo la formazione di un doppio legame. Questo doppio legame che si forma fa sì che questi due elettroni vengano spinti sull'azoto, il quale finalmente è contento e si può neutralizzare. Ok? A questo punto che cosa succede? Succede che il carbonio è vero, scusami, l'azoto è neutro, ma forma una struttura di risonanza con il carbonio in rosso. Questi due elettroni dell'azoto ricollassano sul carbonio, si va, questi due elettroni del legame pi greco tra il carbonio e il bradato sp2 e l'altro carbonio e il bradato sp2 vanno a finire sul carbonio in blu, il quale diventa un carbanione. Questo azoto torna a essere carico positivamente, questo carbonio diventa un carbanione e a questo punto, come prima un carbanione molto nucleofilo, va a accettare un protone, quale? Il protone che la base aveva deprotonato. E di conseguenza succedono due cose, la base torna a essere una base pronta per andare a deprotonare un successivo anello tiazolico e invece la nostra tiammina pirofosfato e si trova legata covalentemente a che cosa? A una specie chimica che presenta due carboni, quindi ha un prefisso et, ha un gruppo sidrilico, quindi è un idrossi etil tpp, tiammina pirofosfato. Quindi questa è la reazione che ha portato alla formazione dell'idrossi etil tpp. C'è un problema. Il problema qual è? È che intanto noi abbiamo trasformato l'acetile in idrossi etile. Il secondo problema è che abbiamo ingabbiato la tiammina pirofosfato nell'idrossi etil tpp. L'obiettivo della seconda reazione qual è? Sarà quello di andare a liberare la tiammina pirofosfato e ossidare l'idrossi etile in acetile. Questo verrà fatto dalla tappa 2 della reazione catalizzata dall'enzima E1 che permetterà di fare cosa? Che permetterà di andare a ridurre uno dei due azoti del ponte di solfuro, della lipoilisina ossidata, e permetterà di formare il legame tio estere. Tra che cosa? Tra l'idrossi etile ossidato, che si chiama acetile a questo punto, e uno zolfo. Questa qui è la reazione 2, l'ossidazione dell'idrossi etil tpp ad acetile e il trasferimento sulla lipoilisina ossidata. Questa qua è la lipoilisina ossidata, che come ti dicevo prima è questa frazione dell'acido lipoico, che è questa qua, questo è l'acido lipoico, il quale è amidato, legato covalentemente con un gruppo ammidico, con un legame ammidico, a un azoto, all'azoto epsilon terminale della lisina. E questa ha la funzione di essere un braccio spaziatore biologico, cioè connettere i diversi substrati, i diversi siti, o meglio per trasferire i substrati. Ed è catalizzato, come ti dicevo, dall'enzima E1. Allora, vediamo un po' qual è la reazione. Torniamo alla nostra etilidrossi etil tiamina pirofosfato. Idrossi etil tiamina pirofosfato. Una base, la stessa presumibilmente, dell'enzima E1, va a deprotonare di nuovo il nostro carbonio, ok? Il nostro carbonio dell'idrossi etil e questa volta non il nostro carbonio dell'anello tiazolico. La ragione in realtà chimica è sempre la stessa, perché c'è l'azoto carico positivamente che ha avido di elettroni e li tira, e quindi rende acido questo idrogeno, che normalmente non lo sarebbe. Ora, a questo punto si forma un altro, un carbagnone di nuovo. Qui avviene la differenza. Attenzione, perché fuoriesce questo, che è l'acido coniugato della base, che si è strappato via il protone, e qui abbiamo, qua vediamo, l'importanza del braccio spaziatore biologico che connette i due enzimi. Qua è l'enzima E2, sempre della piruvatoidrogenasi, qua è l'enzima E1, ok? Che sono in connessione, ovviamente, perché interagiscono tra loro attraverso dei legami deboli. Però, grazie al fatto che l'acido lipoico è connesso alla lisina, attraverso questo gruppo che si chiama lipoil lisina, è in grado di andare a inserirsi nella tasca catalitica dell'enzima E1. Come facciamo adesso a trasferire questo gruppo idrossi etilico dalla tiamina pirofosfato alla lipoil lisina? Perché questo carbagnone appena formato va ad attaccare lo zolfo del ponte di solfuro, questo zolfo del ponte di solfuro si rompe, questo doppietto elettronico che connette i due zolfi del ponte di solfuro funge da base, cioè accettore di protoni, e quindi si viene a formare che cosa? Si viene a formare questo gruppo teolico qua e si viene a formare un legame covalente tra questo zolfo e questo carbonio. Questo è il metile, questo è l'ossidrile, questo è l'anello tiazolico. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a ossidare questo gruppo idrossi etilico. Come facciamo? La base di prima, ok, va ad accettare un, va ad accettare questo protone che è veramente acido in realtà, è abbastanza acido, e questo va ad accettare questo protone, si rompe questo legame, che ora ti faccio in, questo legame tra l'ossigeno e l'idrogeno, che va a collassare sul carbonio, si forma un carbonile, finalmente carbonile dell'acetile, e a questo punto cosa va a succedere? Va a succedere che viene fatto fuoriuscire, viene a rompersi questo, trovate un altro colore, viene a rompersi questo doppio, questo legame singolo tra il carbonio dell'acetile a questo punto e dell'anello tiazolico, questi due sono gli elettroni, ok? Quindi si forma il nostro carbonione. E dall'altro lato, il, dall'altro lato quindi abbiamo riformato la TPP, la tiamina al pirofosfato, che è pronta quindi per andare a, come vedi qua, è pronta per andare a riattaccare il nostro piruvato, e l'altra funzione è stata quella di andare a ossidare, quindi l'idrossi etile a acetile, e aver legato covalentemente, aver formato un nuovo legame tio-estere, tio-estere, ok? Quindi questo è il metile, questo è il carbonio che lega lo zolfo, questo invece è l'ossigeno che adesso forma un doppio legame col carbonio, questo altro zolfo invece forma un gruppo etiolico, ok? La terza reazione, quella catalizzata dall'enzima E2 di idrolipoil transacetilasi, è una reazione di transesterificazione, in cui quello che succede è che viene a formarsi un gruppo tio-estere al posto di un altro. Cosa succede? Succede questo, una base dell'enzima E2 va a deprotonare il nostro coenzima A, di cui ti ricordi nel video scorso abbiamo questo gruppo tiolico terminale molto importante, ok? Abbiamo un gruppo tiolico terminale che deriva dalla decarbossilazione della cisteina in cisteamina del coenzima A e quindi il doppietto elettronico che lega lo zolfo all'idrogeno va a fungere da nucleofilo per questo carbonio che è elettrofilo, elettrompovero e di conseguenza a questo punto si viene a formare un nuovo legame tio-estere, questo legame qua e questo legame qui, e si viene a rompere di subito contro l'altro legame tio-estere, quello che teneva l'acetile allo zolfo. A questo punto questo qui è una reazione di trans-esterificazione o trans-tio-esterificazione per essere ancora più precisi, ok? Quindi si viene a formare un legame tio-estere che va a sostituire un altro legame tio-estere, quindi l'energetica, l'energia della reazione è conservata, cioè è vero che si viene a rompere un legame tio-estere ma l'energia di rottura di un legame tio-estere va a permettere la formazione di un altro legame tio-estere, ok? Questa è l'idea, perché abbiamo detto che la rottura di un legame tio-estere libera energia e questa è quella che guida la formazione di un altro legame tio-estere, ok? A questo punto si deve andare a riformare questo tiolato che è il tiolo senza il protone, a questo punto questo tiolato va, che potremmo vederla come la base coniugata del tiolo, va ad accettare un protone dall'acido coniugato, cioè dalla base protonata e a questo punto si forma la di tiolo-lipoil-lisina. A questo punto c'è un problema, cioè qual è il problema? È che questa di tiolo-lipoil-lisina è inutile perché deve essere ossidata per poter fungere, per poter funzionare. Come facciamo ad ossidarla? La ossidiamo grazie al FAD, nella quarta tappa della reazione, ok? Il FAD sarà in grado di andare a ossidare questa di tiolo-lipoil-lisina. Vediamo insieme come. Allora, questa è la tasca catalitica dell'enzima E3, ok? Che è la di idro-lipoil-lisina dei-idrogenasi. Questa istidina è in grado di andare col suo doppietto elettronico dell'azoto ad accettare un protone da questo gruppo tiolico qui. Questo qui, quindi, è una reazione di base, acido. Questo è un acido perché questo idrogeno è legato allo zolfo che è elettronegativo. Questa è la base, quindi elettroarricca e accetta questo protone. Si forma al tiolato, ok? Dall'altro lato, invece, quello che viene a succedere è che un'altra base, ok, sempre dell'enzima E3, va a deprotonare l'altro gruppo tiolico, della di-tiolo-lipoil-lisina, e questo doppietto elettronico va ad attaccare lo zolfo del legame del ponte di solfuro tra due cisteine che si chiamano cisteina 43 e cisteina 48. Queste sono molto importanti, quindi rivediamo. Succedono due cose insieme. Una è che una base va a deprotonare un gruppo tiolico e quello che succede è che questo doppietto elettronico va ad attaccare un gruppo, un ponte di solfuro, uno zolfo, uno dei due zolfi del ponte di solfuro che è sempre nella tasca E3. Quello che succede, invece, nell'altro tiolo è che una base, un'isteidina, va a semplicemente deprotonare questo gruppo tiolico facendo diventare tiolato. Cosa è successo, quindi? Questo doppietto elettronico tra lo zolfo e l'idrogeno ha formato un legame, un ponte di solfuro con questo altro zolfo. Questo doppietto elettronico del ponte di solfuro tra le due cisteine dell'enzima è collassato e dettornato sul tiolato, quindi ha formato il tiolato, mentre la listidina si è protonata, questa interagisce con un glutammato, e basta. Nel secondo step di reazione il tiolato, quello deprotonato di questo tiolo qui, va ad accettare, va ad attaccare nucleofilicamente questo altro, questo, lo zolfo suo amico fondamentalmente dell'acido, della lipoillesina, e che però aveva formato un ponte di solfuro con la cisteina 43, e questo va a causarne la rottura di questo ponte di solfuro. Questo ponte di solfuro si rompe e quindi questi due elettroni del ponte di solfuro serviranno come agiranno da base per andare a deprotonare l'istidina. A questo punto cosa abbiamo fatto? A questo punto abbiamo fatto sì in questa reazione, quella in cui il tiolato attacca questo zolfo, e quindi come gruppo uscente, se vogliamo, c'è questo legame, questo doppietto elettronico del legame del ponte di solfuro. Se vogliamo, alla fine quindi si è riformata la lipoillesina ossidata e il nostro compito è stato svolto. No. Perché non è stato svolto? Perché non abbiamo riformato la struttura originaria dell'enzima. Quindi quello che noi dobbiamo fare, quindi è quello che fa il FAD, ok? E proprio la funzione del FAD è quella di andare a riformare questo ponte di solfuro nell'enzima E3. Perché se questo non succedesse, la reazione potrebbe avvenire solo una volta, cioè si rompe il ponte di solfuro, non abbiamo un modo per poterlo riformare, ok? Quindi a questo punto cosa succede? Il FAD è in grado di andare a catalizzare questa reazione, in cui fa riformare il ponte di solfuro. Come succede? Il tiolato della cisteina 48 va ad attaccare questo carbonio qui, questo carbonio qui in arancione, che è un carbonio imminico. Perché cos'è un immina? Un immina è un azoto che lega un carbonio, il quale a sua volta lega due gruppi R, uno e due. Un gruppo R è questo, l'altro gruppo R è questo. Questo carbonio quindi, vedi bene, che è elettrofilo, elettrompovero, vuole degli elettroni. Questo tiolato della cisteina 48 va ad attaccare quindi questo carbonio, elettrompovero, elettrofilo. E quindi che cosa succede? Il legame pigreco tra l'azoto e il carbonio va a fungere da base per andare a deprotonare questo altro gruppo tiolico della cisteina 43. Quindi si forma questa condizione in cui l'azoto e protonato del FAD. Si è formato un legame covalente tra la cisteina 48 e il carbonio imminico, che ormai non è più imminico. A questo punto dobbiamo andare a riformare il FAD e riformare il ponte di solfuro. Facciamo lo stesso identico gioco di prima. Qua nella lipoilisina lo zolfo ha attaccato l'altro zolfo e ha fatto uscire un ponte di solfuro. In questo caso nella formazione del ponte di solfuro dell'enzima, lo zolfo della cisteina 43 è sotto forma di tiolato, va ad attaccare l'altro zolfo della cisteina 48 e fa rompere il legame tra lo zolfo e il carbonio. Questi due elettroni, quindi del legame, vanno a collassare, vanno a formare un doppio legame tra il carbonio in arancione e il carbonio sopra di lui del FAD. A questo punto però il carbonio sopra di lui del FAD, quello che ti indico in blu, si trova con 1, 2, 3, 4 legami, ok? Perché forma un doppio legame con l'azoto. Questo quinto legame non lo può sopportare perché fa parte del quarto gruppo e quindi di conseguenza per poter risolvere questa situazione il doppietto elettronico con l'azoto serve da base. Va a accettare un protone e deprotona il nostro acido coniugato che si era formato precedentemente. A questo punto quindi cosa è successo? Il FAD è diventato FADH2 perché FADH2, due ioni idruro, e mentre il nostro ponte di solfuro è stato riformato e quindi la reazione può ritornare. C'è un problema, abbiamo formato il FADH2, la reazione in teoria così è bloccata. La quinta e ultima tappa di reazione prevede di andare a ossidare il FAD da parte del NAD+. Quindi per fare un velocissimo recap, quello che succede è che abbiamo il nostro di tiolo lipoilisina che viene ossidata dal FAD che diventa FADH2 quindi si è ridotto. Il NAD più ossidato deve ossidare il FADH2 a FAD in NADH. A questo punto questo qui è il NAD+, quindi ossidato, questo è il FADH2, una base dell'enzima E3 va a deprotonare questo idrogeno e quindi quello che succede è che questo doppietto elettronico collassa e forma un doppio legame con l'azoto e il carbonio, questo doppietto elettronico tra questo carbonio e quest'altro carbonio va a formare un altro legame con l'azoto e carbonio e quindi questo ione idruro, cioè un idrogeno con due elettroni, va a fare un attacco nucleofilo su questo carbonio del NAD+, che riarrange i suoi legami, neutralizza l'azoto e quindi diventa NADH. E a questo punto il FAD diventa da FADH2 a FAD. Quindi abbiamo questo, il NAD+, che era ossidato, si è ridotto, il FADH2 che era ridotto, si è ossidato. Ok? Questi qua si chiamano legami doppi coniugati del FADH. Quindi questo è quello che c'è da vedere, che è tutto quello che c'è da vedere per quanto riguarda la reazione della piruvato di idrogenasi, del complesso della piruvato di idrogenasi. Questa è l'immagine generale, che quindi ci fa capire che il piruvato deve entrare nella matrice mitocondriale per poter essere substrato del complesso della piruvato di idrogenasi, per diventare da piruvato ad acetilcoenzima A. Ci sono 5 step di reazione che portano a convertire il piruvato in acetilcoenzima A ed è una reazione di decarbossilazione ossidativa, molto spontanea, quindi è favorita perché è isoergonica ed è irreversibile, ha energia libera di Gibbs negativa. E quello che noi abbiamo visto è anche qual è il meccanismo di regolazione. Abbiamo regolazioni allosteriche, che sono positive quando abbiamo un'insufficienza energetica, quindi promuovono la reattività quando abbiamo poca energia e quindi ne dobbiamo produrre, e invece sono reazioni allosteriche negative, inibenti, quando invece abbiamo tanta energia, quindi la cellula non sta lavorando più di tanto e quindi noi ci possiamo anche riposare. Abbiamo anche una regolazione che è invece covalente, che è promossa dalla kinasi, che fa parte anch'essa del complesso ed è, la kinasi alla sua volta, è attivata allostericamente dall'ATP.